buongiorno a tutti e benvenuti all'analisi ciclica evoluta settimanale su dax perché facciamo un'analisi di questo tipo per il fatto che bisogna sempre vedere a livello anche di cicli superiori che cosa sta succedendo per capire qual è il main trend allora perché non siamo andati in overnight venerdì per il fatto che dato che l'inverso il nuovo t più due inverso nato da questo massimo e che sta andando verso questo massimo e vincolato a ribasso è arrivato a 25 candele ovvero a più di una candela rispetto alla durata minima noi dobbiamo andare a vedere poi che cosa sta succedendo qua ovvero dato che qui è partito il terzo t inverso abbiamo che siamo arrivati a 11 candele ovvero esattamente come detto nell'analisi precedenti si poteva salire e si sarebbe potuto salire fino a venerdì scorso poi si poteva iniziare a scendere però attenzione attenzione perché quando si entra in tendenza molto forte qui l'abbiamo fatto per quanto riguarda la salita bisogna anche ricordarsi che magari a volte si riducono molto i tempi per la partenza di un nuovo ciclo in questo caso magari eventualmente di un quarto t inverso e qui potrebbe essere nato ed essere arrivato anche soltanto a 5 barre attenzione è un'ipotesi teoricamente secondaria teoricamente però questa mi basta per dire mi aspetterei teoricamente per domani un'apertura a ribasso eventualmente anche con un lap down o un gap down un gap down sarebbe terrificante perché partiremo dai 12.496 rispetto alla chiusura a 847 però per prudenza e anche per il fatto che si rischiano sempre le lingue di barrier tra un ciclo grosso un altro non metto short perché prendo dei rischi non necessari sapete che la formula rischio non necessaria non necessario la dico sempre mi ricorda un poster di mio padre con la faccia di giovanni agnelli che appunto ricordava che non ha senso andarsi a prendere dei delle problematiche in più rispetto a quelle che già ci sono per l'interpretazione in questo caso per dire di mercato facciamo però anche un'altra riflessione un'altra riflessione che siamo andati a recuperare oltre il 78 per cento della discesa dai massimi abbiamo avuto una ripartenza v fenomenale con una bella finta qua di andare a w una roba che raramente si vede ovvero se ritornate a pensare a un'analisi che ho fatto sul sullo stato nel push 500 in cui dicevo che dopo la chiusura di un ciclo t più 8 pluriennale ovvero da dieci anni circa c'è stato un raccordo una finta rialzo con ribasso e poi si sta potenzialmente partendo rialzo per un nuovo ciclo pluriennale t più 8 beh questa sembra proprio la casistica anche nel caso del dax in questo in questo frangente per cui attenzione a tutti quelli che vi propongono di valutare degli short perché se non siamo in presenza di chiusure di cicli grossi e qui per dire ci può stare una chiusura di t più 2 inverso primo t più 2 inverso e partenza di un altro t più 2 inverso se andate a valutare degli short anche durante alcune giornate rischiate solo di farvi male se lo fate per chiusura di cicli piccoli tipo un t meno 2 un t meno 1 o altro rischiate soltanto di perdere dei soldi vi conviene aspettare la discesa e valutare quando rientrare con un rialzo e magari una violazione di swing magari in concomitanza di un ciclo t meno uno stesso o anche t settimanale perché quello può essere estremamente profittevole permettervi di cogliere di nuovo un buon trend che può durare magari anche appunto un t una settimana ok per cui ecco spiegato perché non siamo andati in overnight altra cosa vediamo invece l'indice come al solito 38 barre primo t più 2 mensile 15 barre per ora secondo t più 2 mensile ricordatevi che secondo t più 2 può fare tutto quello che vuole ok può anche non essere rialzista in questo caso vedremo ok però il secondo dei cicli può avere anche una polarità negativa lo dico soltanto a scopo didattico non che mi aspetti questo per cui abbiamo fatto un primo t settimanale da questo minimo a questo minimo abbiamo fatto un dieci barre più adesso 11 bar scusate più adesso siamo a 1 2 3 4 barre rifacciamo 4 bar ecco qua notate che questo ciclo sta durando tanto un settimanale che va a 11 barre sul dax oltretutto che più rapido e tanto significa che si andando veramente si sta andando veramente in tendenza quindi riflettete sempre bene sulla situazione in cui si è prima di muovermi muovermi e prediligete le operazioni che vi dicevo d'accordo lunedì dopo l'apertura ed eventuali violazioni di swing o swing o swing inversi ragioneremo su come posizionarci eventualmente persino anche per più giorni non soltanto per l'intraday d'accordo se l'analisi vi è piaciuta mettete un like viceversa se non capite nulla e non vi interessa imparare la ciclica voluta ma perché state ascoltando ancora queste mie analisi buona weekend a tutti e buona domenica